Il Gosti Marzellin da Vic I diceva ai nostri veci che dal 1848 a fine del 1968 si doveva andare di corsa a galopare e camminare buganze e diavolini e pestarnef coi piedi scolzi per guarire dai rosori e dalla spizza Ma là, in cima al paese di Vic, ai pei delle calchiere al sud-est del Greco, dove i nostri veci imbrozzavano le sdragole di legna vedeva la luce nel 1890 della cavecia fatta di sassi e di tavole di legna il futurista Agostino Cristofolini chiamato a tutti in paese il Gosti Marzellin L'era non pien de cacera, istintivo, colto disente di quei uomini tutti den toc che sapeva tirar fuori dal niente il meglio Per tutti a quel tempo in paese l'era considera un vero genio Quanti di voi la conosù e quanti di voi si è divertiti con le sue battute sempre pronte Quando si parla del Gosti si parla di ave con il riscaldamento nel volt di sassi fatte fili di ram perché così le poteva lavorare anche all'inverno di bicicletta di giochi fatti di legno per i boci di architettura di falegnameria con i banchi fatti per la cesa dei vic e per la piccola cesa delle coste di credenze delle cosine fatte per le famiglie del paese di slittini per nassù la nef di bare da morte di fotografia con il sito al strof dove sviluppare le foto se poi ne va via la luce e veniva con la sua cassetta degli attrezzi per risolvere la situazione Anni passati Anni di fam Anni di miseria ma tanto amor per la famiglia e per il domani Con un fiol morto gioven e seppellì in terra straniera ed ho femmine da tirassù Con le budele e ingratiade s'aspettava la sera e poi tutti sentati sul fregolare con un bel piatto di mosa calda ed ho fregolotti fatti di farina e di latte e poi tutti a dormire sul paion dei sfoioni a volte si stiamano così perché l'era il sito più caldo E diceva il ghosti che la giazzo sui vetri delle finestre pareva ricam fatta uccinito e che ogni dì il cambiava disegno E dice che nel suo volt il parlava le ave e che i boci quando il passava da su qua il si fermava per mangiare il mel restare sul telarino delle arnie Qualcun ricorda che quando il cantava te il sentivi la sua voce da lontan intonata e poi il feva anche i violini del lì da suonare e per dir la tutta il feva di tutti Se entrava su qua come narra l'osteria La sua sposa Mariota la ti accoglieva con un sorriso e con i suoi piatti sfornati su una vecchia fornella di legna e l'odore del tonco le si impregnava sulle maie repezzate dell'ana Ma quanti di voi in paese ha goduto anche delle sue torte ricamate del crema e dei frutti del bosco Dopo tanti anni insieme il ghosti la saluta la sua Mariota e così sia Ricordava gente sempre però che la vita l'insegnamento bisogna viverla ogni dì e ogni momento come fu sempre Nadal La vicina di Vic la vi augura buone feste e un sereno 2024